e siamo alla seconda neo quattro anni buoni neo quattro anni sul miglio non corre ieri i deni griffa avevano le dieci avevano i mangoni nove vescio fks con mario minopoli più gettonato numero sei arretrato vesuvio è imitato da vernale prende velocità galoppa il tre valchiria via la macchina in velocità e si lotta per il comando all'esterno di tutti il proprio vescio impegna vasco mede passa senza colpo ferir e scende lungo i birilli e così l'ennesimo varenna a dettare i tempi al completamento del lancio che se ne va nell'ordine del 13 e 6 e così lunga fila indiano con il favorito totalizzatore borbotto un e 57 già al comando in chiaro vantaggio al completamento del quarto iniziale quarto iniziale da parte del varenne di casa minopoli che se ne va in 29 e mezzo si affaccia e viene via vip di casei e va su vasco mede lo supera e va ad impegnare vescio che deve allungare cavalli davanti alle tribuni i 600 se ne vanno nell'ordine del 45 e un battito si viaggia da 1 e 15 un po di spiccioli e vip di casei alle costale di vescio per lì nessuno anche vernale terza ruota traffico per vesuvio si completa il mezzo miglio iniziale mezzo miglio in un minuto e un po di spiccioli 15 e 3 di frazione torna in vantaggio vescio stazione al salchi vip di casei i cavalli affrontano il penultimo galop vip di casei e così vescio completa il chilometro in 15 e 6 viene via vernale e vernale con di stefano cerca l'aggancio i cavalli affrontano la curva finale con vescio e vernale in pole position frazione di fronte in 14 8 1 34 3 quarti di miglio fa sul serio vernale ma sembra controllare il francesino e il suo varenne avalia al completamento della curva finale vescio e vernale si giocano la vittoria torna vernale aggressivo ci crede di stefano va deciso su vescio lotta incerta tra i due la lotta è incertissima i cavalli sono in zona traguardo lotta incerta e sul traguardo vernale appariglia vescio 1 59 7 1 14 8 proprio sul traguardo l'allievo di di stefano appariglia completamente e probabilmente pizzica l'avversario totalizzatore che borbotta 20 e 79 se è così è caramba che sorpresa ma non è una sorpresa perché davide di stefano l'abbiamo già apprezzato in altre occasioni vernale quindi questo figlio di iglesias con lo verde al training ma in salchi c'è lui davide di stefano linea lo studio